Il garante dei detenuti Desi Bruno ha fatto visita di recente al carcere di Rimini rilevando come il magistrato di sorveglianza sarebbe assente agli incontri da circa un anno. Le condizioni igienico-sanitarie, secondo il garante, sono decisamente migliorate ma perdura il disagio particolarmente significativo per la mancanza di risposte e i ritardi alle istanze presentate da parte della popolazione detenuta che riferisce di non aver più visto il magistrato di sorveglianza in carcere per gli incontri con coloro che ne hanno fatto richiesta appunto da circa un anno. Le principali criticità a quanto è stato riportato alla figura di garanzia dell'Assemblea legislativa risiedono non tanto nella mancanza di una direzione stabile dal momento che il ruolo direttivo a cui è attualmente attribuita già riveste la titolarità della funzione di un altro istituto quanto nei rapporti con il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, specialmente per i detenuti condannati in via definitiva che hanno anche inviato una lettera alle autorità competenti. Nel corso del sopralluogo, il personale penitenziario ha segnalato che in tre celle di una sezione in ragione di finestre che hanno una evidente ampiezza sottodimensionata, durante la stagione estiva si raggiungono temperature molto elevate. La garante segnalerà il problema all'Ausl per le necessarie verifiche e decisioni, il dato relativo alle presenze infine è risultato sotto controllo secondo il trend dell'ultimo anno, erano 96 le persone di cui 47 stranieri a fronte di una capienza regolamentare di 130.